Andrea Bruzzone, siamo alla Vineria del Molo per presentare due prodotti, uno che è la tradizione dei vostri vini del Genovesato, un altro che è la continuità della tradizione perché è un nuovo rosato, di che si tratta? Si, si tratta del Ragillo, che è un vino rosato fermentato in bottiglia. La continuità della tradizione è perché noi da alcuni anni che facciamo l'agillo bianco, che era quella la ricostruzione che faceva papà Oste da Rintottara di Sararicò, dove faceva fermentare il vino nella bottiglia più pesante per far sì che facessero uno spumante per Natale. Di conseguenza noi abbiamo portato avanti il discorso dell'agillo bianco e quest'anno, trovando un ottimo prodotto base, che è il cilieggioro, abbiamo pensato di spumantizzarlo con la stessa caratteristica, cioè fermentazione in bottiglia, col tappo di sughero, dove all'interno del prodotto troverai anche una piccola parte di fondo. Ma questo fondo si beve molto bene e fa parte della fermentazione naturale. Caratteristiche del vino, Sintori, cosa propone? Ma chiaramente un'alternativa al bianco. Si abbina molto bene agli aperitivi, sia ai fritti, con alcune caratteristiche un po' diverse, diciamo puntando molto anche agli aperitivi moderni, con il pesce crudo, con quello che fa parte della cucina anche tradizionale genovese. Chiaramente il rosato ha dei profumi diversi, più ampi, molto più fruttati, molto piacevole da accompagnare con i piatti.